ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video noi siamo la GeForce Plus con Paschi ciao e ragazzi oggi siamo di nuovo in un video podcast perché vogliamo parlarvi di alcune cose serie non riguardanti il gameplay non riguardante i medi non riguarda i giochi ma riguardando la nostra sfera io me stesso zio direi che magari ovviamente faremo riferimenti a quello che è il nostro canale perché ogni tanto secondo me ragazzi è anche bello scambiare due chiacchiere con voi prima di iniziare però iscrivetevi al canale seguiteci sui vari social per essere sempre trovati sugli uscite di nuovi video e per supportare il nostro piccolo a prescindere da meeting dal gameplay e da tutto è bene che ogni tanto facciamo questo video di questo tipo di video secondo me per magari farci conoscere un po di più perché alla fine voi ci avete conosciuto ci siamo fatti un po conoscere tramite metri perché abbiamo iniziato con quello siamo esplosi con quello però attraverso quel gioco bene o male avete capito che tipo di persone siamo perché è pure bello trasmettere anche qualcosa del genere un po di noi oltre al gameplay e si basca infatti ragazzi hanno imparato a conoscere nella nostra persona era noi non facciamo niente di più niente di meno di diverso nella vita reale rispetto a come facciamo nei video ci siamo così io più logico e fiscale baschi un po così che fa le battute e rega sempre nella vita così siamo e così è abbastanza difficile niente far finta per tutto questo secondo me anche fingere nel fare video per tutto tanto tempo comunque secondo me culmo poi non so nel mondo diciamo del dell'internet del creator nostro padre esatto di creator che noi siamo non so se non so se effettivamente tutti sono realmente così nella vita perché secondo me molti sono personaggi diciamo anche che sia così perché ovviamente ti vai a creare un personaggio che magari può avere successo questo non è il nostro caso ragazzi noi siamo così magari anzi diciamo che la cosa a cui puntiamo che la nostra persona più che nostro personaggio punti a conquistare tra virgolette chi ci segue quindi non avere una maschera davanti non rappresentare quello che non siamo essendo noi stessi cerchiamo ci divertiamo bene paschi a fare video e cerchiamo anche di farvi passare un quarto d'oro 20 minuti di video in tranquillità spensieratezza eccetera distacco diciamo dai problemi di tutti i giorni poi ovviamente nei nostri video come vedete che scherziamo ridiamo e cazzeggiamo noi ovviamente lo facciamo anche perché abbiamo visto un bel riscontro quindi siamo più propensi incentivati a portare video contenuti cioè voi con i vostri like le vostre più misuriamo sempre erivate ma funzionano esatto a portare avanti questo diciamo piccolo progetto che abbiamo creato dal nulla praticamente così a caso e oltre a quello che il contenuto è bello pure magari trasmettere un qualcosa oltre a un gioco un gameplay che praticamente noi siamo siamo così ragazzi come ci vedete e questo questa diciamo decisione di portare avanti il canale quanto altro è pure un modo magari per vederci per stare insieme perché troppo la nostra vita è abbastanza siamo impegnati in più punti di vista infatti se diciamo quando è che ci vediamo abbiamo pure noi a parte il video che c'è oltre a registrare maschi ci vediamo ci confrontiamo parliamo tra di noi cose soprattutto facciamo il quotidiano succede anche questo quindi eppure è bello che cioè diciamo si è creata questa cosa perché non portarla avanti non sarebbe male però perché molti di voi magari ci chiedono di portare più video più contenuti non lo faremo molto volentieri ragazzi potremmo cioè volendo avremmo piacere di portare anche un video al giorno però siamo quasi anche di più baschi ad un video al giorno diciamo coi tempi che ho cioè che avrei concettualmente idealmente si potrebbe anche fare cioè vedendoci potremmo anche fare un video al giorno però i tempi effettivi che abbiamo non sarebbe comunque pesante sì però quei tempi che abbiamo ristretti è già stata veramente già tanto non riusciamo a fare due video a settimana oro oro però ovviamente perché pulmo e suo impegno è di stato università si sta lavorando tra l'altro magari faremo un video fare un video blog blog della laurea vediamo e io ho un'attività sono un imprenditore di successo qualche un imprenditore comunque deve tenersi al passo con esatto quindi facciamo 2 lavori cioè io faccio un lavoro abbastanza che mi impiega molto tempo questo è il problema tra virgolette di questo lavoro che però mi dà delle soddisfazioni quindi mi piace una cosa che piace fare solamente non avrei continuato sicuramente però ogni lavoro se provai contro e il tempo è quello è ovviamente baschi nel tempo diciamo libero ovviamente lo dedica anche l'attività fisica quello diciamo non deve mai mancare e quindi baschi uno più uno fa due a due quindi quando ci vediamo cioè infatti se vedete magari tagliate i video che sono vecchi e perché li abbiamo registrati quando avevamo magari più tempo guarda la storia in archivio e fama li montiamo per poi metterli sul canale quindi ovviamente questo è il fatto che magari in futuro un prossimo futuro più breve se vediamo magari un netto miglioramento del anche se adesso stanno abbastanza bene il nostro non ci lamentiamo però dovremmo trovare uno spunto magari in più un qualcosa per investire ecco perché comunque l'investimento di tempo anche perché il tempo purtroppo è una convenzione perché il tempo non esistere ha diventato l'uomo è una cosa che ha inventato l'uomo non esistere al me c'è una cosa che noi però purtroppo noi ci dobbiamo ci dobbiamo adattare aspettate un attimo scusate un attimo rispondo un attimo ai lander in diretta per voi si dacci solo cinque minuti stiamo un attimo registrando un video importante non rompere il e quindi ragazzi come dicevamo il tempo è quello che partiranno così tirano convenzione che uno che sia comunque ci dobbiamo adattare a questa cosa del tempo però cercheremo sempre di magari di portare contenuti anche diversi come già abbiamo detto in futuro e come stiamo facendo pesante portare nuovi contenuti anche oltre il gameplay si fa che diciamo che i contenuti extra che abbiamo portato a parte il primo video podcast e il secondo video sulla sernitana sono stati comunque gameplay e l'idea era anche di andare oltre appunto questo gameplay e portare altri contenuti in realtà qualche idea ce l'abbiamo comunque possiamo anche valutare l'idea che paschi per il lavoro che fa esplorando potrebbe essere di intrattenimento dal suo punto di vista io per quello che mi sto laureando stessa cosa potrebbero è uscì fuori cose molto interessanti e da parte di paschi e da parte mia quindi potremmo anche andare oltre da questo punto di vista l'idea esatto la nostra idea di magari portare oltre al messaggio di fratellanza e di amicizia che stiamo tornando l'altro e magari di mettere a disposizione delle nostre conoscenze al servizio del nostro pubblico ecco magari in modo anche carino stiamo pensando abbiamo belle idee diciamo si è esatto le idee baschi ci sono bisogna ovviamente trovare come vi ho detto prima tempo e la forma e il denaro donate e fa iscrivete al canale perché sennò youtube che paramo tutto proporzionato cioè se venissimo remunerati in maniera importante o comunque decente si dedicheremo molto più tempo cioè poi più tempo a quello che facciamo più tempo però siccome è un semplicemente un modo per passare il tempo da parte nostra per divertirci ho detto per vederci per confrontarci rimane quello però può diventare sempre qualcosa di più ovviamente meeting cerchiamo di non abbandonarlo mai no però comunque si deve essere nostro diciamo della media ci divertiamo per esempio con europe ci stiamo divertendo alla fine siamo sì sì poi questo diciamo è un periodo un po morto per me diciamoci la verità inizia l'estate è un po mortarello da settembre magari qualcosina in più su medi sicuramente la vedrete perché ovviamente la maggior parte di voi che ci state guardando ci state guardando soprattutto per meeting ragazzi quindi questo è quello che volevamo dirvi ovviamente un video fatto così perché come detto all'inizio si passano è bene magari parlare con voi in veste di non giocatori fatti e passi fatti ragazzi non ci vedete indossare le nostre magliette tri forse perché volevamo essere paschi e bulbo e non la tri forse che vi parlava però paschi la cosa che volevo dire prima di chiudere e che me giudato mannaggia ciao come paschi possiamo dire comunque questo video l'abbiamo fatto senza scriverci i copioni se si scriveva niente di getto come viene come ci veniva da dirvi che ragazzo perché volevamo essere il più semplice possibile il più paschi e il più bulbo possibile per per voi per questo video quindi ragazzi possiamo dire per i numerosi che sono arrivati fino a questo punto del video un abbraccio da noi della tri forse vi diamo un grande in bocca al lupo per quello che state facendo come e paschi siamo intraprendenti in questo momento noi della tri forse vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ragazzi comunque paschi stavano andando in palestra lo mettiamo così a cazzo c'è muscoli alto livello